Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani, come sempre nei festivi, via dei fori imperiali sarà isola pedonale per l'intera giornata, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Questa notte si sposta la NMB. Per il mercato di Porta Portese, sempre domani un cambio di percorso è previsto per i collegamenti 170, 719 e 781. E ancora di nuovo domani sono in programma manifestazioni socioculturali a Ostia, in Viale delle Repubbliche Marinare e in via di Torsapienza. I dettagli e le deviazioni bus su romamobilita.it Grazie. Grazie. Grazie.